ciao donne modenesi il 6 di giugno partecipate con noi a donne digitali un evento importantissimo che si terrà al museo enzo ferrari e che invita le donne sia che siano poco digitali come la mia mamma oppure che siate blogger o social media al manager a partecipare per parlare insieme dell'era digitale associata al mondo femminile vi aspettiamo ciao ciao